ciao a tutti oggi abbiamo fatto un secondo piatto tradizionale italiano adatto ai pranzi importanti al menù di pasqua il cosciotto di agnello al forno con le patate vediamo subito come preparare questo cosciotto per quattro persone per fare l'agnello con le patate al forno noi utilizziamo un chilo e cento di coscia di agnello un chilo di patate novelle tre quattro spicchi di aglio in camicia un rametto di rosmarino qualche foglia di alloro olio extravergine di oliva sale quanto basta e pepe primo passaggio condiamo il nostro cosciotto se dovete fare l'agnello al forno con le patate vedete stiamo mettendo il sale e se dovete fare l'agnello al forno con le patate vi consigliamo come taglio di carne appunto il cosciotto in modo che sia tenero ma soprattutto si cerca così di eliminare quel problema che è spesso legato all'agnello di trovare gli ossicini all'interno mentre si massica mentre con questo cosciotto non avete questo problema li ha dato anche i bambini lo massaggiamo che mettiamo vedete gli spicchi d'aglio nei tagli che abbiamo fatto fare direttamente in macelleria quindi dovete andare dal macellaio dovete dirgli che avete bisogno di un cosciotto di agnello e chiedeteli di farvi anche questi questi tagli abbiamo messo vedete l'aglio in camicia all'interno ne abbiamo messi quattro pepe noi lo facciamo nella maniera tradizionale ma anche in maniera veloce questo perché questo è il secondo piatto tradizionale di pasqua e non faremo solo questo faremo tante altre preparazioni quindi vi facciamo vedere come sbrigarvi un po' anche quindi pepe da una parte e dall'altra mettiamo un po' di olio direttamente sulla carta da forno l'abbiamo messa sulla teglia il cosciotto lo mettiamo in teglia nei tagli che abbiamo fatto fare dal macellaio ci mettiamo anche vedete le erbe aromatiche quindi il rosmarino fateci sapere voi quale ricetta farete con l'agnello a pasqua e se non mangerete agnello quale sarà il vostro secondo piatto vi ricordiamo che noi abbiamo una playlist con tantissime ricette di secondi piatti quindi se non volete mangiare l'agnello avete tantissime altre idee in quella playlist che vi linkiamo in descrizione su youtube lo giriamo e facciamo la stessa cosa questo è il secondo piatto tradizionale di pasqua in italia è il cosciotto di agnello con patate all'italiana che si prepara praticamente in tutte le regioni d'italia sapete che noi vi facciamo vedere sempre le ricette tradizionali italiane e quindi non poteva mancare questa ricetta antica vi facciamo vedere come proprio come lo preparavano le nonne ci mettiamo l'olio sopra preriscaldiamo il forno dopo un'ora a 200 gradi ventilato ci dedichiamo alle patate queste ovviamente è inutile che ve lo diciamo però le abbiamo sciacquate con bicarbonato prima quindi li abbiamo lavate sono patate novelle preferiamo questa tipologia di patate durante i pranzi colmi di ricette che ci prendono tanto tempo di preparazione perché ovviamente queste non dovete pelarle e quindi vi tolgono meno tempo quindi altro consiglio che vi stiamo dando per sbrigarvi per il menù di pasqua se vi ritrovate a preparare non solo il secondo piatto ma anche le altre portate cuoceremo tutto insieme nel forno quindi una ricetta alla fine sbrigativa ci abbiamo messo quindi rosmarino il sale ci stiamo mettendo sopra anche il pepe olio sapete che noi vi abbiamo fatto vedere anche la ricetta delle patate al forno per farle venire croccanti fuori dentro morbidissime ci sono un po di passaggi ovviamente in questo caso non andremo a farli e quindi mettete un po più di olio amalgamiamo le foglie di alloro le mettiamo così direttamente nella teglia qualcuna sotto ci mettiamo le patate ci mettiamo le patate mettiamo le foglie di alloro anche sopra ancora un goccino di olio prima di andare in forno e avete visto la preparazione è stata velocissima a già un bellissimo aspetto non trovate adesso lo inforniamo a 200 gradi ventilato dopo un'ora possiamo spegnere il forno eccolo qui il nostro agnello con patate è pronto se vi è piaciuta la nostra ricetta fatecelo sapere nei commenti se volete vedere altre ricette tradizionali come questa dovete iscrivervi al canale youtube cucina geek basta cliccare sulla campanella in basso a destra al video di youtube inoltre veniteci a trovare anche sugli altri social siamo su facebook e su instagram alla prossima ricetta ciao 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 ciao